Ultimo atto verso l'approvazione delle varianti alle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Consorzio ASI. La conferenza di servizi, che ci si augura sia quella conclusiva, è fissata per il prossimo 22 luglio alle ore 10 presso la sede della provincia di Salerno. Nel corso dell'ultimo incontro, datato 7 luglio, la discussione si è arenata sulla questione del frazionamento degli immobili destinati al terziario. Messi a confronto i vari pariri dei soggetti identico e involti, la provincia di Salerno, per il tramite del consigliere Mimmo Volpe e dell'architetto Nicola Vitolo, aveva infatti condotto la discussione sulla necessità di soffermarsi ed esplicitare la definizione di terziario, sia esso tradizionale o avanzato, per evitare quello che il consigliere Volpe aveva definito un terziario indiscriminato e rendere più chiaro il quadro delle attività compatibili con tale termine. Per la provincia, infatti, la destinazione d'uso degli immobili deve corrispondere per il 51% della superficie all'attività principale dell'azienda, mentre il restante 49% destinato ad attività diverse. Di contro l'ASI proponeva la liberalizzazione della destinazione d'uso delle superfici, siano esse attività artigianali, commerciali, piccole industrie o terziario. Questioni per le quali di sicuro si ipotizza si possa trovare un facile accordo tra le parti, considerando il lungo iter attraversato finora dalla conferenza di servizi e la lunga attesa degli imprenditori e commercianti che vedono nell'approvazione delle varianti uno spiraglio verso la ripresa economica.